Il 2025 rappresenta un anno che passerà alla storia, soprattutto se saranno mantenute le scadenze fissate per l'attuazione del piano di decarbonizzazione nel nostro paese. Entro tale data, infatti, l'Italia dovrà essere in grado di fare a meno delle centrali alimentate a carbone, a cominciare da quella di Cerano, dell'Enel, dove di questo combustibile fossile se ne consumano milioni di tonnellate ancora oggi. Il problema, pertanto, sta nel fatto che bisogna verificare l'efficacia del Piano Nazionale Italiano Energie e Clima per verificare se ci sono tutte le condizioni per che venga attuato in maniera compiuta. L'argomento è stato affrontato dalla Filctem CGL alla presenza di Andrea Lovisetto del Dipartimento Elettrico, Gas e Acqua dello stesso sindacato a livello nazionale. Una buona occasione per riportare al centro delle attenzioni anche i problemi che verranno a determinarsi sul piano economico e occupazionale per effetto della dismissione della centrale Brindisina. Tutti i progetti che ha sono finalizzati, ovviamente, alla transizione energetica. Parla di rinnovabili. Stamattina ce li hanno presentati senza entrare nei dettagli, ma con delle cose che hanno certe. Quindi dall'idrogeno, perché hanno presentato il bando sul PNRR, piuttosto che alla fabbrica di economia circolare per recupero della plastica, per fare poi le intelaiature dei pannelli fotovoltaici o ricreare la Gigafactory modello Catania anche qui a Brindisi, perché comunque il pannello fotovoltaico è uno degli strumenti che guiderà la transizione energetica. La nostra preoccupazione è quella che tutti questi progetti però devono garantire l'occupazione che c'è oggi, sia dei dipendenti di Enel, se questi non vengono ricollocati in altre società del gruppo, ma lì siamo forti e sicuri che nessuno rimane a piedi. Ma non ci dimentichiamo di tutto l'indotto, che sono più dei dipendenti di Enel che ci sono sul territorio e che non devono essere abbandonati, anzi devono avere la garanzia che la transizione è una transizione giusta e quindi a impatto occupazionale zero, devono rioccuparsi tutti. Parliamo che se i dipendenti di Enel oggi in centrale sono poco più di 200, adesso 230 dovrebbero essere circa, quelli delle imprese in appalto che lavorano su quel sito sono dai 4 ai 500 a seconda del periodo perché c'è più produzione, meno produzione e quindi dipende un po', però insomma 400 ci sono sempre stabilmente.